Sindaco Festa, sono giorni delicati ovviamente, ora qui l'abbiamo visto qui fuori parlare un po' con i tifosi della Scandone, qual è la situazione? E' chiaramente complicata ma noi abbiamo l'obbligo di non mollare, di lottare fino alla fine come abbiamo sempre fatto, di provarci, non vogliamo assolutamente che la Scandone fallisca, vogliamo che sia garantita l'iscrizione almeno al campionato di B1, avendo recepito anche dal presidente Petrucci che non ci sono più i requisiti, i parametri rispettati né per la 1 né per la 2, sto in questi giorni anche incontrando chi ha manifestato interesse per il calcio affinché provi a dare anche una mano al basket per salvarlo. Siamo a delle interlocuzioni, è evidente che il basket purtroppo non suscita grandi appil da parte degli imprenditori, lo sport invece che in qualche modo viene più sollecitato il richiesto è il calcio, ma da primo cittadino ho l'obiettivo di salvaguardare la storia di entrambi i club e di salvaguardare anche il cuore di tanti tifosi appassionati di calcio e di basket, sappiamo che questa impresa è complicata ma noi siamo abituati anche alle imprese impossibili. Secondo lei quanti giorni dovranno passare per avere le prime certezze su entrambi i fronti? Ma guardi, ho richiesto di presentare le prime offerte ufficiali, almeno per ciò che concerne il calcio nella prossima settimana, certamente c'è l'udienza del 12 luglio che rappresenta un po' una spada di Damocle per ciò che riguarda la Sidigas Spa, questa data sta un po' frenando chi eventualmente fosse interessato, però spero che qualche offerta arrivi anche per far comprendere che c'è interesse relativamente allo sport, c'è anche qualcuno intenzionato a rilevare il calcio e contestualmente mi auguro anche di poter ricevere l'adesione, almeno a una sponsorizzazione del basket. Quale futuro lei da ex cestista vede per la Scandone? Guardi, in questo momento l'unica cosa che vedo è dinanzi a me l'obiettivo di salvare la Scandone, di non farla scomparire e di garantirle la massima serie possibile allo stato dei fatti. Non voglio pensare negativo, lottiamo fino alla fine e poi al termine del match tireremo le somme.